Questa è la visione che io ricevo dal luogo in cui ora abito, questa è l'alba oggi qui a Saronno, oggi 12 gennaio 2019 e questo è il paesaggio che io vedo dalla mia casa. Al di sopra dei tetti io vedo questo paesaggio e questa è l'alba. Se io soltanto alzo un po' il mio punto di vista allora riesco ad andare ancora un po' oltre quelli che sono i tetti. Io sono proprio al livello del colmo dei tetti che ho davanti a casa mia. Sto tenendo sollevato ad altezza di due metri il mio punto di vista e voi state vedendo l'alba, il sole che sta per nascere qui a Saronno mentre al di sopra dei tetti ecco l'ambiente di questa cittadina in questo gennaio che non sembra gennaio ma un giorno di primavera. La stessa visione ora alle tre e mezzo del pomeriggio. e così un po' più dall'alto. Questi sono i tetti che ho davanti a casa. e così un po' più dall'alto.